Bene, cominciamo a leggere il testo che non leggeremo integralmente ma antologicamente perché è estremamente lungo. Dunque, signorina felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora e Ivrea rivedo e la cerule adora e quel dolce paese che non dico. Bene, dicevamo questa poesia è ambientata nella regione del Canavese, si fa riferimento anche a Ivrea che è la città più importante di questa regione a nord di Torino e il dolce paese che non dico è Aglie, dove il poeta aveva una residenza e quindi dove spesso si recava a trascorrere soggiorni anche lunghi. Ecco, ricorda appunto la signorina felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Ecco, si ricorda quando la sera si recava a trovare questa giovane donna ed entrava nel giardino antico della sua casa. Ed ecco che appunto al crepuscolo e il giorno di Santa Felicità lui si ricorda di questo fatto, dei loro incontri. Nel mio cuore amico scende il ricordo, il ricordo è amico, è piacevole. Signorina felicità è il tuo giorno? A quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno? O cucilini e canti e pensi a me, all'avvocato che non fa ritorno. E l'avvocato è qui che pensa a te. Ecco, questa fanciulla, come dicevamo, non è una fanciulla colta, una fanciulla che appartiene all'ambiente letterario che il poeta frequenta in città, che frequenta Torino, è una fanciulla molto semplice e questa semplicità viene colta nelle azioni che in qualche modo il poeta ricorda. Ecco, tosta il caffè, vedete un'azione molto molto semplice, molto banale, molto quotidiana, perché sappiamo che il quotidiano è una delle caratteristiche della poesia dei temi, della poesia di Corazzini. E il buon aroma si diffonde intorno? Oppure ecco altre azioni di questa fanciulla. Cuce lini e canta e pensa al poeta, forse lei sta pensando al poeta. E lo chiama avvocato, lui stesso utilizza la parola appunto avvocato, perché effettivamente lui ha studiato giurisprudenza, anche se poi non ha mai completato gli studi, e quindi erano questi suoi amici, anche il padre della ragazza, erano abituati a chiamarlo l'avvocato. Tant'è vero che poi, sempre in questa poesia, si parla del padre della ragazza che chiede addirittura dei consigli di legge e di giurisprudenza a Guido, anche se Guido non sa rispondere perché non gli interessa neanche farlo, ma perché appunto in realtà non era, come dire, particolarmente amante degli studi che stava conducendo e quindi era, come dire, abbastanza, un avvocato abbastanza svogliato e disinteressato, ecco, a certe questioni. Si interessa invece molto di più alla compagnia di felicità, piuttosto che ai colloqui con il padre e quindi anche a questioni di carattere giurisprudenziale. Bene, quindi ecco l'avvocato, quindi questo termine che viene utilizzato proprio perché si fa riferimento anche a questo motivo, come dire, biografico. E l'avvocato è qui che pensa a te. Ecco, in effetti Gozzano pensa a Felicita, tant'è vero che scrive questo componimento dedicato proprio a questa fanciulla. Pensa i bei giorni d'un autunno addietro, villa marena a sommo dell'ascesa coi suoi ciliegie con la marchesa dannata e l'orto dal profumo tetro di busso e i cocci in numeri di vetro sulla cinta vetusta alla difesa. Bene, non c'è nulla di difficile da capire, cerco di andare un po' più velocemente. Si parla, si introduce il luogo, l'edificio, la villa, la villa che si chiama Villa Amarena e che apparteneva in passato a una marchesa e c'erano anche delle leggende su questa marchesa, una marchesa dannata, il cui spirito in qualche modo, ecco, si dice che alleggi ancora, circoli ancora all'interno di questa villa. E vengono ricordati i ciliegi, i profumi, però vedete che ecco anche i profumi che vengono ricordati hanno un'aggettivazione molto crepuscolare, no? Tetro, ecco, il profumo tetro, la cinta vetusta, no? Ecco, questo, vedete, sono alcuni di quei termini, poi ne incontreremo altri ancora più evidenti, che sono termini che possono essere termini lirici e termini, diciamo, non che appartengono al linguaggio quotidiano, anche se vengono in qualche modo armonizzati, accostati, no? ad altri termini che invece sono molto più prosaici, no? Prima parlavamo del caffè, ad esempio, o del cucire, che è l'azione, una delle azioni che compie questa fanciulla. Villa Marena, dolce la tua casa, in quella grande pace settembrina, la tua casa che veste una cortina di grano turco fino alla cimasa, ora chiariamo meglio che cosa vuol dire questo, come una dama secentista invasa dal tempo che vestì da contadina. Ora, ecco, la casa della fanciulla è dolce, perché dolce il ricordo, no? Di questi incontri. Ecco, la pace settembrina, sì, ecco, l'ultimo incontro con questa fanciulla viene alla fine dell'estate, viene poi meglio precisato successivamente, e quindi, ecco, il momento della stagione è quello della fine di fine estate. E si vengono, si precisa alcune caratteristiche della casa, non solo architettoniche, ma in questo caso anche l'utilizzo, no? Di questa villa, che pur essendo una villa nobiliare, una villa pertenuta a una marchesa, viene utilizzata come una semplice casa di campagna. Tant'è vero che le mura, no? Le mura dell'abitazione sono ricoperte di grano turco, il grano turco che viene raccolto nei campi, e si dice come una dama secentista invasa dal tempo che vestì da contadina, no? Ecco, anche la villa nobiliare ha vestito, veste da contadina. È invasa dal tempo, perché stiamo parlando di un edificio molto antico e anche un po' decaduto dal punto di vista estetico e architettonico, e addirittura quasi ha cambiato veste, no? Perché da casa nobiliare adesso è una casa contadina. Bene, proseguiamo, e sempre viene descritto questo edificio, bello edificio triste, inabitato. Vedete l'aggettivazione, l'aggettivazione ci porta subito a un ambiente, a un'atmosfera molto crepuscolare, molto decadente, no? La tristezza. E anche il fatto che è inabitato. Inabitato perché effettivamente è un ambiente molto vasto, no? Rispetto a chi ci abita fondamentalmente il padre e la figlia. Grate panciute, logore, contorte, silenzio, fuga delle stanze morte. Vedete anche questo aggettivo della morte, no? È particolarmente significativo perché ci porta subito in ambiente crepuscolare, no? Il tema il tema della malinconia, la tristezza, la vecchiezza, no? Ma anche la morte. Odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato. Ecco, sono proprio toni, tonalità tipiche della poesia crepuscolare. Mi parlerei qui, in questa prima parte, fiabe defunte delle sovrapporte. Sì, perché adesso si parla degli interni, di alcuni abbellimenti di questo edificio e quindi si parla, nella strofa successiva, delle raffigurazioni, delle sovrapporte con motivi di carattere mitologico. Poi si parla successivamente dell'arredo, di un arredo squallido e severo, di un arredo che in qualche modo è malinconico, è triste, diciamo così, e quindi ecco si descrive questa villa, ma come vedete, no? La descrizione, i toni, i modi, il lessico usato, l'aggettivazione, ci porta in un'atmosfera tipicamente crepuscolare.